Per la nostra città, per la nostra città, per la cosa ci fa! E volevo dire che siete stati eccezionali non soltanto per questa serata e per tutto lo sbattimento che avete avuto e avete dato per i giorni subito dopo la tragedia quando siete andati a spalare, a lavorare direttamente lasciando la curva vuota, facendo più veloce che avete fatto alla faccia di giornalisti, di famatori e quindi questo vi rende onore, per noi è un onore suonare per voi questa sera allora grazie a voi grazie ragazzi allora quando la gente che viene dalla strada si fa